Uno. Buongiorno ragazzi, Agonia, buongiorno Agonia, qui stai? Bene. Avete visto che sorpresa oggi? Lo stesso sguardo vivo. A qualsiasi ora. Sentite questa voce, lo sguardo di Don Rechac. Curpo. Ecco, è lui. Curpo. Attenzione, guardate che cosa c'è qua. Questa faccia è orrenda. E la risata. Guardate che Amadeus alle 6 del mattino insieme a Marco Baldini abbracciatevi, i ragazzi di Via Massena ragazzi. Mi riprendi così? I ragazzi di Via Massena 2 Radio DJ Radio DJ 1999 89 89 89 Eccoci qua. Brutti come Amadeus. Amadeus, dovete sapere però non diciamo abita nel mio stesso palazzo. Con inquilini siamo. E io a 300 metri da voi. Ah, capito. Siamo tutti con inquilini e stamattina mi dice ma adesso ma perché non vieni una mattina? E vabbè. Stamattina mi sveglio leggermente in ritardo cioè alle 6 meno 10 per me è tardi. È tardissimo. 6 meno 10 e allora gli mando un sms e gli dico scusa Amma C6? Fra 5 minuti dice C6 e mi fa sono fuori al cancello. E ero stalker. Con le 4 frecce. Sono stalker. Senti, ieri sera direttamente da Talo e quale show chi ha vinto la puntata? Ha vinto Silvia Salevi. Allora, tu non ci crederai non ci crederai ma oggi dovrebbe venire Silvia Salevi ma lei non sa che tu sei qua. Ah certo, lei non lo sa pure lei abita qua in zona. Non lo so. Si, si so che abita perché andiamo allo stesso cinema con i bambini perché siamo tutti quasi. abbiamo fatto la fila Roma si è in bimbo per i finture. Buongiorno. Buongiorno. C'è Susanna Vianello che vede che sta in zona. La figlia di Edoardo è fantastissima. Buongiorno, cara. T'ho portato un ospite. Ma no, ma lei è un mito del web Bonni la cozza in persona fresca sposa ma come stai? Benissimo, grazie. Saranno contenti gli antennati di vederti qua. Ciao. E Rosi che rarro, Rosi che rarro a me dire. Come stai? Ma tu non ci sei. C'è Bonni la cozza facciamo la cozza e il branzino. Ma che belli che sono. Oh, che bella mattinata oggi ragazzi. Bella mattinata. Armonia, oggi è festa. È festa, eh? Va bene ragazzi, a dopo. A dopo, a dopo. Chiudo, chiudo, chiudo.